Ciao a tutti, Angelica Dall'Order. Oggi voglio presentarvi un altro dei nostri impianti capillari in stock con codice S1INS. Questo prodotto è adatto per coloro che vogliono mantenere i capelli sempre in perfetto ordine. Realizzato con tipo di lavorazione ad innesto piatto e come potete ben vedere questo tipo di lavorazione garantisce un effetto cuoio capelluto straordinario. La base come potete ben vedere è realizzata in pelle super trasparente e super sottile, base priva di nodi, facili da applicare e da pulire. L'attaccatura frontale dell'impianto è perfettamente naturale, solamente noi di L'Order consigliamo di non pettinare i capelli all'indietro perché con la lavorazione ad innesto piatto vi risulterà praticamente impossibile. Consigliamo questo impianto capillare a coloro che ritengono più importante uno stile impeccabile alla traspirabilità. Continuate a seguirci sul nostro canale youtube e per qualsiasi informazione o qualsiasi problema siete pregati di contattarci al numero 86 53 28 08 28 255 oppure potete contattarci all'indirizzo e-mail support-lorder.com o potete visitare il nostro sito web www.lorder.com e non dimenticate mai che L'Order vedersi bello sentirsi bene.